Allora? No, bella e bella, eh. Ma che è sta cosa, Glauco? René, qual è il motto della rivoluzione francese? Eh, dai, il motto della rivoluzione francese. Liberté, calité? Eh? Eh? Non mi viene. E' prensilité. E' prensilité. No, ma non è prensilité. E' prensilité. E' la prensilité che fa girare il mondo, non la fraternité. Eccole lì, fraternité. No, fraternité zero. Prensilité. Bisogna sempre uscire da un progetto con qualche cosa in mano. Atteggiamento prensile. A livello più basso però c'è stato i registi, quelli che prendono a fine film la camicetta, i cazzucci, i pedalini. Scusa, questo gireino. Dì la verità. Te l'ha data la costumista. Sì. Oh no. Mamma mia. René, René, tu devi fare un salto di qualità nella prensilité. Prensilité. Tu che ne pensi? La cosa più bella che ho fatto. Tu volevi cambiare il mondo, eh? Sì. Ma se non sei protagonista, come lo cambi il mondo? Va. È vero o no? Dai, giriamo la scena dei 30 denari. Tu volevi cambiare il mondo, eh?